Prove generali nel piazzale della palestra del Policampus questa mattina, alla vigilia della visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini, prevista per le 11 di domani. I due ospiti d'eccezione rivolgeranno agli studenti e ai docenti di tutta Italia il loro messaggio di augurio per il nuovo anno. Atteso un pubblico di circa 1.800 alunni provenienti dagli istituti di tutto il territorio nazionale, selezionati dagli uffici scolastici regionali e appartenenti a scuole fautrici di progetti didattici di eccellenza durante lo scorso anno scolastico 2015-2016, riguardanti tematiche come integrazione, valore della diversità, lotta al bullismo, rispetto. L'inno nazionale verrà eseguito da una delegazione di studenti dell'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello di Lampedusa e Linosa e degli istituti comprensivi Giovanni Battista Valente e Goffredo Petrassi di Roma, accompagnati dall'Orchestra dei Conservatori d'Italia sotto la direzione del maestro Leonardo De Amicis, assieme agli allievi delle Accademie Militari Nunziatella di Napoli e Pietro Teulier di Milano, della Scuola Militare dell'Aeronautica Giulio Duet di Firenze e della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia. Presenti inoltre sul palco alunni provenienti da Cosenza, Cagliari, Siracusa, Firenze, Isernia, Sulmona e dalla comunità montana Monrose-Pont-Saint-Martin di Aosta, a rappresentare la Valtellina, l'Istituto Scolastico di Livigno. Durante la cerimonia sono previsti interventi di personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport. Siamo qua per questo grande evento della scuola e il Presidente, come avete visto, ha voluto portare forte in giro per l'Italia la vicinanza delle istituzioni e noi abbiamo il piacere di condividere questo impegno ogni anno da molti anni e speriamo di aver fatto del nostro meglio. In programma anche un collegamento in diretta dalle scuole delle zone colpite dal sisma dello scorso 24 agosto.